ciao angela finalmente il car tablet per la tua porsche macan ciao è arrivato siamo in dimostrazione audio e video tramite le usb poi basta toccare il touch possiamo passare anche direttamente al dsp dove avrai varie impostazioni adesso c'è la pellicola protettiva che fa un pochino di riflessi poi tu una volta che ha eseguito la lavorazione la potrai togliere torniamo nel nella home principale eccola qui poi qui ai gestione audio e video come parlavamo prima questa è la usb radio potrai memorizzare le stazioni via voce bluetooth streaming musicale e poi da qui puoi accedere sempre al menu generale qui ai parametri della macchina abbiamo il setting potrai anche cambiare lo stile della home page adesso lui qualche secondo ti cambia lo stile andiamo a vedere eccolo qui te lo ha cambiato queste sono tutte personalizzazioni che fate io ti rimetto lo stile che c'era prima da default eccolo qua io ti ringrazio poi se servirà un aiuto per l'installazione mi contatti ricordiamo porsche macan terrà l'ho